ma di vista di arrivare deciso adesso prendono anche accornate e sempre tutto sta sempre in come quanto si conoscono e poi anche ovviamente la predisposizione dei cani conta molto però è una zoppica grazie 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 adesso vado a prendere altri tre ecco questi sono gli ultimi tre dopo ci sono tutti i nove sembra che loro abbiano capito già un po meglio di cosa si tratta in generale ogni volta che viene porto qualcuno di nuovo vogliono instaurare ed adesso come questi tre che forse perché si fa vedere meno spavaldi e le nemmeno che resta inizialmente come si annusano magari si iniziano anche a mangiare già le prime feci c'è da dire che quando mi sono assentato andare a prendere gli altri non c'è stata nessuna aggressività da parte delle pecore questo non lo vogliono non c'è Dai.